Dopo il successo travolgente dello spettacolo di Maurizio Battista dello scorso anno, anche quest'anno ho inserito in cartellone uno spettacolo dedicato all'allegria, alla stensieratezza e così abbiamo in scena ed in cartellone Uccio De Santis con il suo nuovissimo spettacolo Non so che fare prima. Uno spettacolo che lo vede in scena con tutti i protagonisti di Moodoo e che regala così agli spettatori del Festival d'Otunno una serata diversa in questa torrida estate, una serata dedicata veramente alla spensieratezza e al divertimento. L'idea è nata proprio perché vincitore della 6 ultima nel 97, quindi sono passati parecchi anni, mi venne in mente, dovendo fare un programma televisivo, inventarmi un programma televisivo cucito su me stesso, anziché io che faccio? Io ho vinto il premio, racconto le barzellette, come dicevi tu raccontata, in televisione posso farla gustare al pubblico sceneggiandola, anziché dire i due amici che si incontrano, faccio vedere realmente in ospedale i due medici che si incontrano magari e che là si sgruppa il dialogo. Quindi siamo diventati attori più che raccontatori di barzellette, facciamo gli attori nel nostro Moodoo che è un programma televisivo, ci tengo a dire questo, è nato Telenorba nel 2000, quindi sono passati 24 anni, da 24 anni è nato questo programma, lo stiamo ancora realizzando, verremo in Calabria a girare, questa è una notizia in anteprima perché proprio stamattina venendo ho fatto dei sopralluoghi dove gireremo in provincia di Cosenza e poi ovviamente possiamo girarlo comunque quando, insomma, se volete rubare gli scorci più belli della Calabria. E quindi nasce, ripeto, 24 anni fa e nasce per la TV, poi è stato ovviamente proiettato sui social e quindi ha avuto un riscontro fantastico, adesso mi chiamano ovunque perché il telefonino, i social arrivano ovunque, a differenza di un'emittente privata come Telenorba che aveva il vaccino di Puglia, Molise e Basilicata. Infatti per 15 anni ho lavorato esclusivamente in Puglia, Molise e Basilicata. Però anche in Calabria poi Modù è sbarcato all'inizio degli anni 2000. Perché è stato messo in onda da un emittente di Catanzaro e quindi altrimenti nessuno ci avrebbe calcolato, anche se è in maniera inferiore rispetto, immagina che su Telenorba andiamo quotidianamente da 24 anni e quindi immagino un po' come strisce la notizia per Canale 5, no? Che lo vedono ogni giorno. Ha cresciuto intera generazione. Sì, sì, sì. Un incontro degli adulti che sembrano quasi più anziani di me che dicono, io ti seguivo e avevo 4 anni. Ah, mi fa piacere. È proprio l'inizio dello spettacolo da gustare perché con un video facciamo vedere proprio come ognuno di noi è costretto a spostare orari, a spostare appuntamenti proprio perché non sa che fare prima. Esatto, noi la facciamo trattando pochissima politica perché poi passa, trattando moltissimo temi quotidiani, quello che la coppia vive nel rapporto quotidiano, quello che ognuno di noi ha vissuto nel momento in cui, quando era adolescente, quando era bambino, come è cresciuto, tutte cose dove la gente ha notato che si rispecchia. Oggi faremo vedere anche quello che può succedere ascoltando la telefonata tra due amici, quello che può succedere nel supermercato, quello che può succedere tra marito e moglie. Ovviamente non mancano i carabinieri, non possono mancare carabinieri, medici, perché le barzellette maggiori sono sui carabinieri, medici, preti, abbiamo un momento di confessione che è straordinario ed è, come ho detto prima, il cavallo di battaglia. Ci sono delle cose che riportiamo volutamente perché poi il problema è che tu vuoi sconvolgere tutto, poi davanti a te hai l'80% delle persone che magari non ti hanno mai visto, è un ventisi ed è un peccato veramente non far vedere quelle che sono le pedine più particolari del nostro show. A proposito di festival d'autunno, io ogni tanto mi sventro col volantino, festival d'autunno ad agosto, ho chiesto ma perché festival d'autunno? Perché per me l'autunno inizia quando il coltello non riesce ad entrare nella nutella, è che diventa un po' più dura, questo l'ho detto anche nei suoi, quello è l'autunno, ora adesso con 37 gradi, va bene così.